La rassegna stampa è offerta da Martedì 9 dicembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali di oggi. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano il messaggero. Renzi, non lascio, Roma ai ladri. Mafia capitale, il premier e giovani PD. Prendere tangenti la cosa peggiore per un politico. La rete della cupola tra Viminale, Finanza e Vicariato. I contatti con le inchieste Expo e Mose. Politica all'alto là della guidi, la Confindustria sbaglia a criticarci. Intervista al ministro dello sviluppo, lo Stato, nell'Ilva, ma solo a tempo. E poi la cronaca, il bimbo ucciso, il papà, se è stata l'emica del mondo addosso, la mamma a 5 oro sotto torchio, Loris, indagine verso una svolta. Passiamo alla pagina regionale, dando uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ribaltamento, stazione a Lecce, nel mirino gli incarichi senza bando. Depositato in procura, un rapporto della Guardia di Finanza. E ora la Gazzetta di Lecce, ribaltamento stazione, sospetti sugli incarichi, prende corpo l'ipotesi di abuso d'ufficio. L'inchiesta, la Guardia di Finanza, deposita il rapporto in procura. Taglio centrale, Natale in città, arrembaggio agli stand, il traffico va in tilt, i commercianti lamentano la mancanza di posti auto. Presi d'assalto, fiere mercatini, ma la viabilità resta un problema. Cronaca, Collepasso, scontro sul Rondò, chiuso al traffico, un morto e due feriti. Taglio basso, calcio, Lega Pro, il Lecce scaccia l'incubo del calo in zona Cesarini. Il capitano abruzzese affoggia un gol episodico. Il personaggio, una blogger leccese, vince a Parigi, narrando sul web lo stile italiano. Maria Rosaria Rizzo premiata al prestigioso Golden Blog Award. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia. Tredicenne, violentata da amici, racconto shock, siamo usciti e mi hanno portata in via Lemoro, due indagati. La denuncia alla polizia presentata con i genitori e al vaglio degli inquirenti per i riscontri. Il blitz della polizia in via delle giravolte a Lecce, chiuso il drogashop nel cuore della Movida. Cronaca, scontro frontale tra Auton, morto, feriti due giovani, l'ennesimo incidente sulla maglia Collepasso, la vittima è un 75enne. L'iniziativa della diocesi di Ugento, trivelle la chiesa in campo, il vescovo scrive al ministro e chiama a raccolta i sindaci. Apre la casa della solidarietà, SOS Caritas, poveri senza cibo, l'appello di Dorattilio Mesagne agli imprenditori. Il salentino Daniele Manni, tra i primi 50 al mondo, prof del Costa, in corsa per il Nobel degli insegnanti. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, parte sport a scuola, lavoro 108 insegnanti, benessere dei più piccoli, nuovo progetto di governo e coni. L'emergenza parcheggi, spariti in quattro anni, oltre 700 posti auto, la città non regge più. Dopo Natale via anche gli ultimi posti dell'ex Carlo Pranzo, da Palazzo Carafa ad oggi nessuna ipotesi di soluzione. L'attacco, piano natalizio un flop, Pasqualini si dimetta, il PD rotundo, sfiducia, basta, soluzioni, tampone. Il Megapack fermo, ex Enel pronti a vendere ad un privato, trattativa in corso sul multipiano da 700 stalli. L'emergenza sociale, i nostri poveri senza cibo, cari imprenditori, adesso non lasciamoli soli. L'appello di Dorattilio Mesagne a imprese e cittadini. La cerimonia apre la casa dell'accoglienza, pronta ad ospitare 18 senza tetto. L'immobile in via Costa Dura, donato dalla parrocchia. L'avvertenza dei musicisti, l'orchestra Schipa chiede aiuto al prefetto. Contro la chiusura prevista entro la fine dell'anno, anche gli interventi degli artisti Ritacca e Franzutti. Concludiamo infine con lo sport. A Lecce di Lerda mancano i gol degli attaccanti. Cinque centri per Moscardelli, uno per Della Rocca e due per Miccoli. Fin qui utilizzato col contagocce. Verso il derby, Mister Ciullo guida il gruppo dei Salentini nel Martina, presenti tanti ex giallorossi. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento come sempre con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da Grazie per essere stati in nostra compagnia.